La questione legata ad un eventuale centro per autistici in Alta Erpina, presso l'ospedale Criscuoli, resta di stretta attualità sia per l'importanza del tema che per le scelte che dovrà prendere l'ASL nelle prossime settimane. A fare il punto della situazione, spiegare il suo punto di vista, i nostri microfoni, è il direttore sanitario del nosocomio al Tirpino, Angelo Frieri. A noi l'ASL ha chiesto dei locali per poter accogliere sia i bambini che i adolescenti oppure anche i adulti che hanno questo problema. Noi abbiamo risposto in maniera positiva, nel senso che alcuni locali ci sono. Sembra strano la polemica sull'ospedale di Sant'Angelo, questo voglio essere chiaro. L'ospedale di Sant'Angelo non si salva, prendo questi ambulatori. L'Ali Sant'Angelo ha la sua funzione ospedaliera, riabilitativa, pronto soccorso e altre strutture che andremo ad aprire come la cardiologia e l'ortopedia. C'è una zona dell'ospedale riservata che può essere utilizzata per attività territoriali, che nulla a che vedere con le attività ospedaliera. Ci hanno chiesto la disponibilità degli spazi, io ho dato la disponibilità. Poi per il resto non entriamo in merito alla questione che credo che sia ancora molto molto da approfondire e da sviluppare. Il direttore Frieri interviene anche su ciò che si dovrebbe migliorare all'ospedale Criscuoli per farlo diventare sempre più un punto di riferimento per la sanità altirpina. Io credo che la funzione di questo ospedale sia essenziale. L'essenziale soprattutto per questa popolazione che, soprattutto in questo periodo magari invernale, dove anche gli spostamenti sono difficili, una struttura, un punto di riferimento è importante. È importante perché io, come ho sempre detto, abbiamo una popolazione anziana, spesso sola, e quindi ha anche difficoltà a muoversi. Sant'Angelo però chiede qualcosa in più. Sant'Angelo chiede qualcosa in più sicuramente. Credo che i sei posti di cardiologia semi-intensiva siano fondamentali. Gli ortopedici, che adesso dovremmo cercare di organizzare. D'altro lato noi siamo un ospedale di emergenza, di primo livello, e quindi dobbiamo avere la dignità di questo ospedale. Per il resto poi credo che va poi naturalmente arricchito, soprattutto col personale medico, che in questo momento ne è carente, come naturalmente è carente anche in altri ospedali della Campania.